Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Prima di iniziare vorrei farvi un po' di premesse. Prima di tutto voglio ringraziarvi per i commenti bellissimi che mi avete lasciato sotto il video del caso di Perugia, il video che ho fatto in collaborazione con Elisa e la mela avvelenata. Siete stati davvero molto molto carini, noi con quel video volevamo mandare un messaggio ben preciso. Spero che questo messaggio sia stato compreso. Detto questo vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Ma soprattutto nell'info box è linkato anche il Google Docs, ossia un link in cui voi potete cliccare e accedere a una pagina in cui chiedermi i casi. Detto questo diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi avete chiesto e che io non conoscevo. La protagonista di questa storia si chiama Michelle Warner, ha 31 anni e abita a Houston, in Texas. Tutto inizia lunedì 24 settembre 2012, quando Michelle non si presenta a lavoro. La donna lavora in uno studio paralegale da qualche mese e il suo datore di lavoro, quel lunedì mattina, prova a contattarla più volte, senza ottenere risposta. Cosa è successo quindi a Michelle? Ma soprattutto chi è Michelle? Michelle nasce il 6 giugno del 1981, a Dunball, in Texas. I suoi genitori divorzano quando ha appena 8 anni. Sua madre fa l'insegnante ed è lei che cresce da sola, Michelle e suo fratello David. Michelle è una ragazza con una personalità a dir poco radiosa e magnetica. È molto estroversa ed è anche molto ambiziosa. Quando si diploma al liceo riceve una borsa di studio, che usa per pagare l'università, ossia la Stephen F. Austin University. Michelle sogna di diventare avvocato, è una bravissima studentessa. Ma i libri non sono la sua unica passione, infatti adora follemente la musica. Ed è anche bravissima a suonare. Quando sente una canzone alla radio è in grado di riprodurla o con il pianoforte o con il saxofono immediatamente. Inoltre sa cantare molto bene, ha una voce fenomenale, potente, intensa. A 17 anni Michelle inizia a frequentare il 19enne Chase Warner. I due sono andati allo stesso liceo, insomma erano compagni di scuola. Michelle dà alla luce la sua prima figlia, Hailey, il 29 marzo del 2001. La ragazza ha appena 19 anni. Pochi mesi dopo Chase e Michelle convolano a nozze. Però questo matrimonio inizia ben presto a incrinarsi. Nel 2003 Michelle infatti è occupata a seguire le lezioni all'università. Non è presente a casa, inizia a litigare sempre più spesso con Chase. Le cose non vanno più bene come in passato, quindi i due decidono di divorziare di comune accordo. Chase ottiene la custodia di Hailey, quindi si trasferisce a Graepland in Texas. Michelle a questo punto si trasferisce con loro per poter vedere Hailey e per starle vicina. Michelle si ritrova da sola e deve gestire sia le lezioni che deve seguire l'università che la sua bambina. Non la vede tutti i giorni perché sta un po' con lei e un po' con Chase, ma questo non vuol dire che la situazione sia facile. Dopo il divorzio Chase rimuove Michelle dalla sua assicurazione sanitaria, su cui aveva fatto affidamento per acquistare i suoi farmaci per l'ansia. Non sta bene, è molto stressata, così la ragazza cerca in tutti i modi di intorpidire il dolore e quando non può più prendere le pastiglie per l'ansia, inizia ad assumere antidolorifici in gran quantità. Nel gennaio del 2006 Michelle viene fermata per un eccesso di velocità, ma il poliziotto che la ferma capisce immediatamente guardandola che c'è qualcosa che non va. E infatti decide di perquisire l'auto di Michelle trovando della roba non troppo legale. Così la donna viene arrestata e condannata a otto mesi di carcere. Dopo il rilascio Michelle decide di frequentare un programma di riabilitazione, che termina dopo un anno. Nel 2008 si trasferisce a Houston, dove ottiene un lavoro come segretaria presso una società di forniture mediche. Vede sua figlia Hayley ogni fine settimana. Le cose per Michelle a questo punto pare stiano andando decisamente meglio. E mentre la donna è a lavoro, incontra un altro uomo. Si chiama Mark Castellano e lavora nella stessa azienda di Michelle come informatico. Michelle ovviamente racconta Mark della sua famiglia, del suo passato. Inoltre spera vivamente che sua figlia Hayley si trovi bene con lui. Cosa che in effetti avviene. Hayley si trova immediatamente a suo agio con Mark. Così la coppia va a vivere assieme. E Michelle rimane nuovamente incinta. Nel 2009 nasce Caden. Michelle è emozionata per questa gravidanza. Ma non Mark, che inizia a prendere le distanze da Michelle. Per poi lasciarla due mesi dopo la nascita di Caden. Trasferendosi a Odessa. In Texas. Dai suoi genitori. L'uomo non dà mai una mano a Michelle per crescere Caden. Mark sparisce totalmente dalle loro vite. Michelle inizialmente ci rimane male. Ma quel tempo trova un po' una sua dimensione. E sembra felice. Conduce una vita da mamma single. Ama i suoi figli. Ama la sua famiglia. E a questo punto trova lavoro come paralegale in un'azienda di Houston. Nel 2012, quindi tre anni dopo, Mark si fa risentire. Dice a Michelle che vorrebbe prendersi cura di Caden. È pronto a fare il padre. Mark quindi dice a Michelle che si sarebbe preso cura del bambino. E avrebbe dato una mano a Michelle. I due però non tornano insieme. Infatti la ragazza inizia di nuovo ad avere una vita sociale finalmente. Esce, si diverte e ritrova gli amici che aveva perso di vista. Ad un certo punto Michelle vuole essere più vicina al suo posto di lavoro. E sa che Mark vive in un condominio che dista dieci minuti dal suo ufficio. Così propone a Mark di vivere insieme come coinquilini. Così si sarebbero presi cura di Caden. Pur conducendo vite separate. Lunedì 24 settembre, David, il fratello di Michelle, riceve una chiamata da Chase, il primo marito della donna. Chase dice a David che ha provato in ogni modo a mettersi in contatto con Michelle. Ma non ha mai ottenuto risposta. Ed è strano perché sarebbe dovuto andare a prendere Hayley, loro figlia. La famiglia di Michelle, conoscendo i precedenti, teme che la donna si sia allontanata per una ricaduta a causa dei suoi brutti vizi. Quando però David chiama Mark, scopre che è audessa con Caden, dei suoi genitori. E non ha idea di dove sia Michelle. È sparita in realtà da qualche giorno ormai. David a questo punto si infuria. Mark sa che Michelle è sparita da ore e non ha avvisato nessuno. Mark dice a David di aver visto Michelle per l'ultima volta, il 22 settembre, ossia sabato sera. Poi hanno litigato e lei è scappata dalla finestra della camera da letto. Sottolinea che probabilmente ha davvero avuto una ricaduta perché è solita comportarsi così. Ma David non crede assolutamente a Mark. Sa bene che problemi ha dovuto affrontare sua sorella. Ed è certo che non è sparita perché ha avuto una ricaduta. Inoltre Mark, prima di andarsene ad Odessa, lascia un biglietto a Michelle incastrato sullo specchio del bagno nel loro appartamento a Houston. Il biglietto recita. Michelle, Caden ed io non ci siamo più. Puoi avere l'appartamento tutto per te. Prendo la macchina. Dal momento che non puoi pagare l'appartamento e devi dei soldi a mio padre, fallo rifinanziare dal tuo ricco papà e togli il mio nome. Se l'ha benvenuta a Odessa, puoi venire a vedere Caden quando vuoi. Ma, dato che sei nel bel mezzo di un fine settimana pieno, immagino che non mi richiamerai. Questa volta ti farò fare un test. Cagna. Firmato. Lo stronzo. Però, che biglietto. I cari di Michelle a questo punto dicono alla polizia di Houston che la versione di Mark non li convince. Anche loro inizialmente hanno pensato ad un allontanamento volontario. Ma riflettendoci hanno concluso che Michelle non si sarebbe mai allontanata né da Caden né da Hailey. Così denunciano la sua scomparsa. Formano una squadra di ricerca. E iniziano a fare dei giri in macchina alla ricerca di Michelle. Intanto il detective Phil Waters si mette in contatto con Mark. Al detective Mark dice la stessa identica cosa che ha detto a David, né più né meno. Non ha idea di dove sia Michelle e crede abbia avuto una ricaduta. Aggiunge anche un particolare. I due, sabato sera, hanno litigato. E Michelle l'ha colpito con uno schiaffo in faccia. Infine si è chiusa in camera da letto. Quando Mark è andata a controllare dieci minuti dopo, non ha più trovato Michelle in camera. La finestra era aperta e lei era sparita. A questo punto la polizia si insospettisce perché l'auto di Michelle è ancora parcheggiata sotto casa. Quindi come si sarebbe allontanata Michelle? A piedi? A questo punto i detective ottengono i tabulati telefonici di Michelle, scoprendo che l'ultima chiamata l'ha fatta proprio, sabato sera. La polizia a questo punto va a fare un sopralluogo nell'appartamento di Michelle e di Mark, che però ormai è vuoto, non trovano nulla. Non c'è niente che li faccia pensare che sia avvenuto un crimine in quella casa. Però c'è un fatto. È impossibile stabilire se ci siano stati o meno segni di collutazione in casa, visto che ormai l'appartamento è vuoto. I detective però scoprono una cosa che li fa insospettire. Poco prima della scomparsa di Michelle, Mark ha consegnato le dimissioni a lavoro, dicendo al suo capo che si sarebbe trasferita ad Odessa per vivere con i suoi genitori. Dopo poco tempo però dice al suo capo che ha cambiato idea. Infatti Mark ha detto al suo capo che ci ha ripensato e non vuole assolutamente andarsene. Non tornerà a vivere Odessa, ma avrebbe bisogno di una settimana di ferie a partire dal lunedì 24 settembre, in quanto gli serve del tempo per trovare una babysittera da Taki Eden. A questo punto la polizia ha un nuovo obiettivo, cercare qualche attività nelle vicinanze che ha delle telecamere di videosorveglianza, le quali potrebbero aiutarli nelle indagini. Individuano molto facilmente un edificio formato da uffici commerciali, che sta esattamente dall'altra parte della strada. I detective vanno dunque in quell'edificio e si fanno dare filmati di sorveglianza a di loro interesse. In un filmato di sabato sera alle 18.47 si vede chiaramente Mark entrare nel parcheggio dell'appartamento e entra in casa sua. Nulla di insolito quindi. Se non fosse che, dopo poco, l'uomo esce di casa, sale in macchina di Michelle e la posteggia a marcia indietro verso il posto auto al coperto. Poi esce dall'auto e fa diversi viaggi dall'appartamento all'auto di Michelle. Parte poi con Caden alle 21.28 per andare ad Odessa. Nelle prime ore di lunedì mattina, Mark torna all'appartamento di Houston. Sono le 3.21. Entra in casa e poi trascina un grosso container nell'auto di Michelle. Fa di nuovo diversi e numerosi viaggi dalla casa all'auto per poi andarsene verso le 6 del mattino. La polizia perquisisce anche l'area intorno alla casa dei genitori di Mark ad Odessa, trovando una serie di oggetti in un cassonetto. Trovano una scatola di pannolini, i biglietti da visita di Mark, i suoi occhiali da sole, la carta di credito di Michelle rotta, dei vestiti e un pezzo di nastro adesivo nero. Il detective Waters, alla luce di queste nuove scoperte, chiama Mark per convocarlo in centrale a Houston. Mark ha consente, prima però va ospite dal dottor Phil, dicendo di non centrare nulla con la sparizione di Michelle. In realtà, anche in quel programma parla malissimo di lei. Dice che era solita andarsene lasciando i bambini da soli, perché aveva dei brutti vizietti. Inoltre, gli metteva le mani addosso. A mio parere, questa intervista è stata molto importante per questo caso. Fin dall'inizio, il dottor Phil diagnostica a Mark un narcisismo. Dopodiché è stato anche in grado di stabilire che tipo di relazione avevano Mark e Michelle. Quella sì che sembrava una relazione estremamente tossica. Era evidente che Mark si era inventato una storia per spiegare la scomparsa di Michelle. Ma non riusciva a stare al passo con le sue stesse bugie. Arriviamo quindi al 30 settembre, quando Mark si presenta in centrale. Il detective chiede a Mark di raccontare nuovamente la storia di ciò che è accaduto la notte del 23 settembre. Mark racconta che lui e Michelle hanno litigato per Caden. L'aveva perso di vista un attimo e il bambino si era messo a disegnare con il pennarello sui muri della casa. Mark sottolinea che spesso e volentieri Michelle diventava violenta nei suoi confronti. Però riusciva sempre a cambiare drasticamente. Per fare una buona impressione, Michelle, infatti con gli altri, si comportava, e queste sono le esatte parole di Mark, come una principessa carina e disponibile, riuscendo ad ottenere tutto ciò che voleva. Il detective a questo punto chiede a Mark di essere un po' più aperto, vuole che si fidi di lui. Il detective dunque fa parlare Mark, che intavola un discorso su suo figlio Caden. Dice che la maggior parte del tempo il bambino lo passava con Michelle, dunque era molto preoccupato perché secondo lui Michelle non era una buona madre. Quindi Mark ha ucciso Michelle per proteggere suo figlio. L'uomo dice con tutta tranquillità che le ha rotto il collo, ma non l'ha mica fatto apposta. I due infatti stavano litigando in camera da letto. Michelle si era girata verso di lui. Lui l'aveva afferrata per il collo ma era caduto su di lei, sul letto, schiacciandoli la trachea. Mark è stato sopra Michelle diversi minuti prima di capire che le aveva tolto la vita. Lui non voleva assolutamente farle del male in questo modo. Non voleva mica ucciderla. Durante questo litigio peraltro Caden era sempre rimasto nella sua cameretta, quindi alla stanza a fianco. Poi però sentendo del baccano era entrata in camera, vedendo i piedi di Michelle pinzolare dal letto. Mark aveva detto a Caden a questo punto, Shhh, non facciamo rumore, che la mamma dorme. Mark quindi aveva nuovamente riaccompagnato suo figlio a letto e aveva rimboccato le coperte per poi tornare nella sua camera da letto. A questo punto Mark aveva legato con del nastro adesivo mani e piedi di Michelle. Le aveva infilato un sacchetto di plastica sulla testa e infine aveva infilato il corpo della donna in un armadio, per poi guidare fino ad Odessa con Caden. Aveva lasciato il bambino dai suoi genitori, per poi ritornare a Houston col fine di pulire le possibili tracce. Aveva messo Michelle in una specie di container e poi l'aveva trascinata in macchina. Aveva infine guidato fino a Midland, seppellendo il suo corpo in una zona piena di giacimenti petroliferi. E in effetti i resti di Michelle vengono ritrovati proprio in un giacimento petrolifero, esattamente otto giorni dopo la sua scomparsa. David, il fratello di Michelle e sua madre, hanno addirittura deciso di partecipare allo show di Dr. Phil per cercare di trovare più indizi. Ma il giorno in cui sono atterrati in California per registrare l'intervista, hanno appreso che il corpo di Michelle era stato trovato a marcire lentamente in un giacimento petrolifero a 500 miglia a nord-ovest di Houston. Il corpo era così gravemente decomposto che il medico legale ha dovuto utilizzare le sue impronte digitali per identificarla. Mark è sempre sotto interrogatorio e a questo punto inizia anche a piagnucolare. Dice al detective che la sua vita è finita, che merita la pena di morte. Poi, di colpo, scoppia in lacrime. Peccato che quelle lacrime non siano così sincere. Il detective dice chiaramente che, secondo lui, Mark non stava assolutamente piangendo, bensì aveva le mani davanti alla faccia e stava singhiozzando, quindi stava cercando di simulare un pianto. E infatti, poco dopo, Mark si fa portare da mangiare e inizia a chiamare chiunque, amici, parenti, dicendo in modo freddo, L'autopsia rivela che Michelle ha subito due fratture alle costole. Una frattura all'osso ioide e una frattura alla cartilagine cricoidea. È morta per strangolamento e ovviamente Mark è accusato di omicidio. L'assistente procuratore distrettuale Jamie Rayna, all'apertura del processo, ha dichiarato alla corte che Questo è un caso di ossessione, rabbi e tentativi calcolati di questo imputato di farla franca per l'omicidio che ha commesso. Ha iniziato a serbare così tanta ira nei confronti di Michelle che l'ha afferrata per il collo, ha iniziato a soffocarla, ha iniziato a stringerle il collo e l'ha soffocata per ben un minuto e mezzo. Il medico legale testimonia che Michelle è morta per strangolamento. Fa riferimento alle due fratture alle costole e ai segni di strangolamento sui due lati del collo. Inoltre sottolinea che è improbabile che Michelle sia morta per essere stata afferrata al collo e gettata sul letto sotto il peso di qualcun altro, a meno che non fosse inclusa una pressione prolungata del collo. Durante il processo, peraltro, salta fuori che Mark in passato ha minacciato di uccidere Michelle per ben due volte. Ha detto che avrebbe voluto uccidere Michelle per stare solo con Caden e i suoi genitori. Anche se Mark ha confessato di aver ucciso Michelle, si è dichiarato non colpevole in quanto ha affermato che la sua morte è stata causata da un incidente Era infatti avvenuta una cesalite tra Mark e Michelle e Mark, mentre si difendeva, era caduto su Michelle. Non voleva assolutamente farle del male. Mark cerca di dipingere il quadro di una relazione instabile, una relazione in cui spesso è stato picchiato da Michelle. Ma non ci sono mai state segnalazioni di violenza nella loro relazione prima di quella notte. In tribunale il fratello minore di Michelle, David, dice di averla vista per l'ultima volta pochi giorni prima della sua morte. Ha sospettato che la situazione fosse strana dopo aver ricevuto la chiamata dall'ex marito di Michelle, in cui gli comunicava che la donna non si era presentata ad una visita programmata per vedere sua figlia Hailey, cosa che Michelle non avrebbe mai fatto. David dunque ha provato a chiamare sua sorella, ma non l'ha risposto, e di conseguenza si è preoccupato sempre di più. David e suo padre sono andati a Houston, nella zona di Gripland, per controllare il suo appartamento, ma l'hanno trovato vuoto, non c'era più nulla là dentro. I giurati apprendono in tribunale che Mark ha raccontato alla famiglia di Michelle, ai colleghi e alla polizia, diverse storie su cosa fosse realmente successo quella notte. Mark ha detto a David che lui e Michelle avevano litigato, e lei era fuggita fuori di casa, lasciandogli la macchina e il figlio. Mark aggiunge che sembrava impazzita. In una telefonata che David ha registrato tra lui e Mark, che è anche stata ascoltata in tribunale, si è potuto sentire Mark dire esattamente queste parole. Ho esaurito ogni pista possibile per Michelle, sei l'unica e l'ultima persona che conosco che l'ha vista. Qui nasce un dubbio mica da ridere. In che senso sei l'unica persona che conosco che l'ha vista? Mark sostiene di aver visto per l'ultima volta Michelle quel sabato sera, poi è scappata, dunque dovrebbe essere lui l'ultimo ad averla vista. La difesa chiama solo un testimone, ossia un ingegnere forense, il quale dice che le ferite di Michelle sono coerenti con la versione dei fatti data da Mark. Durante il processo l'avvocato di Mark, sostiene che questo sia un delitto di impeto e passionale. E peraltro Mark ha agito per legittima difesa, perché la prima a colpirlo è stata Michelle. L'ultima parola però aspetta ai giurati, che in effetti concludono che il caso di Mark non solo non è un delitto di impeto o passionale, ma non è neanche un delitto avvenuto per legittima difesa. Un delitto di impeto è improvviso, ossia è qualcosa che accade nel momento stesso in cui si verifica l'offesa. È un istinto così forte che fa totalmente perdere il controllo. Il punto è che Mark non ha colpito Michelle in uno scatto di ira, non ha perso il controllo e non l'ha colpita neanche per legittima difesa. L'uomo sapeva esattamente cosa sarebbe successo quel sabato. Aveva già minacciato Michelle in passato e aveva anche iniziato a cercare una babysitter per Kayden. Mark avrebbe potuto ricevere una condanna all'ergastolo e invece nel 2014 è stato condannato a 27 anni di reclusione. Ha dovuto inoltre pagare una multa da 10.000 dollari ai familiari della vittima. Nel 2026 avrà diritto alla libertà vigilata. Hailey, la prima figlia di Michelle, nel 2015, ha scritto in un tweet che sua madre era stata vittima di violenza domestica. Non ci sono più aggiornamenti su di lei, ma presumo che stia bene. La sua affermazione però in effetti mi ha fatto riflettere. E se fosse stato Mark, quello violento, l'uomo sottolinea in ogni modo che Michelle era una tipa manesca, che lo schiaffeggiava spesso, che gli metteva le mani addosso. Ma se fosse esattamente il contrario? È possibile che Michelle avesse paura di Mark e tentasse quindi di proteggere i suoi figli in tutti i modi da un uomo violento e aggressivo? Questa situazione a me non mi sembra così tanto assurda, anche perché Mark non è che si fosse comportato bene alla nascita di Kayden. Abbandonato la sua famiglia a due mesi dalla nascita di suo figlio per tornarsene dai suoi genitori a Odessa. Onestamente già questo mi sembra un atteggiamento che poco si configura con l'immagine del buon padre. Ma questa è solo una mia ipotesi. A quanto pare Hayley durante il processo vive con suo padre, ma non si sa cosa sia successo dopo il processo. Ad oggi nessuno sa dove sia Hayley. Mentre Kayden oggi dovrebbe avere circa 11 anni. Fino al 2017 Kayden stava con i suoi nonni a Odessa. Ma la madre di Michelle ha annunciato che presto avrebbero chiesto la custodia del ragazzino. Ad oggi però non ci sono fonti attendibili per verificare la sua residenza. Detto questo ragazzi io ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto fate ciò che vi rende felici e prendetevi cura di voi. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.